Ci fermeremo dinnanzi alla casa di Vincenzo per mostrare la nostra solitarietà. Quando c'è solitarietà, fratellanza c'è anche apertura alla verità. Non possiamo essere neomertosi, non possiamo essere coloro i quali si girano dall'altra parte. Tutto quello che stiamo facendo non ha senso. Se ciò accade, allora diventa importante che ogni tassello venga messo al posto giusto. Noi disposti al cambiamento e all'avvicinamento a Dio, ma allo stesso tempo che la verità venga alla luce, non per ciascuno di noi giudicare, ma perché oltre a Dio possa giudicare le autorità competenti a un fatto gravissimo. L'omicidio è peccato. La vita è preziosa, la dignità della persona è preziosa, ciascuno di noi siamo preziosi e non possiamo taggermi.